Servizi di continuità assistenziali, ospedale e territorio, progetti socioeducativi per minori e percorsi di sostegno familiare per persone con decadimento cognitivo. Sono queste le azioni che la zona distretto Casentino ha previsto per i prossimi tre anni grazie al progetto AteDoc, finanziato per 263.000 euro dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus rivolto alle persone non autosufficienti e con disabilità residenti nella vallata. Il progetto AteDoc in Casentino prevede il sviluppo di tre azioni. L'azione 1 che è rivolta per le dimissioni protette dall'ospedale al territorio delle persone ultra 65 anni che presentano condizioni di non autosufficienza o che si siano a rischio della non autosufficienza con limitazioni nella propria autonomia e di riammissione al proprio domicilio in maniera supportata e protetta. L'equip che valuta queste dimissioni e l'attivazione di questi interventi è la COT dell'ospedale. L'altra azione che il Casentino intende perseguire è l'azione 2 che prevede appunto l'assistenza domiciliare che è fornita da operatori economici per le persone che presentano deficit di autonomia e sono certificate con demenza e Alzheimer. Oltre agli interventi di assistenza domiciliare è prevista anche la possibilità di poter frequentare in forma di urna un servizio per alleviare il carico assistenziale delle famiglie e poter mantenere le proprie abilità e funzionalità individuali. L'ultima azione che il Casentino ha pensato di sviluppare è rivolta ai minori con disabilità attraverso degli interventi socioassistenziali e socioeducativi.